ATTENZIONE! Gli spezzoni di video fanno parte della nuova serie di Minecraft che ci sarà sul canale. Ma per sbaglio Dictory non ha registrato il mio microfono. Quindi scusatemi l'anticipo XD In questo nuovo video oggi siamo qui con un nuovo inizio. Siamo in single player e ci sono andato in un villaggio. Partiamo a prendere un po' di legna. E' un po' di legna. Tranzollamente, tranzollamente. Ok sh**, che cazzo di... Ok, comunque non è vero che sono single player, sono con Dany e con Tizio. E' un po' di esclamazione. E' un po' di legna. E' un po' di legna. Ok, mi sono trompa... ok comunque. Siamo su seda di PAPCROFT. Io non cambio skin, questa è la mia skin. Anche se la testa è un po' modificata, leccolo leggermente. Io ti accorgi a me qua nella casa di prima. Eh? Vieni qua nella casa di prima. Aspetta 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 sto prendendo legno, cioè... Ciao tessu! Sì, coble stanno soltanto. Andiamo a sceglierci la casa e poi chiudiamo l'episodio. Sì, mi stiamo... Ok, lasciamo già il villaggio. Tocchi, intanto... No, no... Ok, ok, però io non le peco. Agilmente completato. Mi dai un po' di... Eh, cos'è che vuoi, giacellule? Un po' di lana. Eh sì, certo. Mi ho detto ti scuse, no, no, va bene. Lì, insomma, vuoi entrare? Oh! Tu mi hai sbattuto fuori di caso, Danny. Non ciò non mi devi scassare. Dai, no, io... Tutti in casa che salutiamo. Ciao, ciao, ciao. Aspetta che chiudo allora. Mi vedo. Da, allora, tutto. Ciao a tutti, salutate. Ciao, 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 ciao. Ciao, fine. Eh, tu non l'hai fatto perchè io mai ho già chiuso. User in your channel stopped recording. Io ho già chiuso! Io... Ciao, adesso io ho già chiuso il mio video, ma fa niente. Ciao, aspetta un attimo, io ho visto il nome qui. Ho visto il nome! Orco... Dani, fai qui. Certo. Dani, abbiamo tutto scritto. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Buongiorno a tutti, il mio nome è Tizzi20 e non devo tanto urlare perchè sono le 11.50 di venerdì sera, quindi quasi... quasi sabato. Comunque, benvenuti e... Come avrete visto nell'anteprima del video, avrete visto l'epico fail della prima puntata. Introduzione di questa nuova serie. In pratica è successo che non mi ha registrato il microfono, ho sbagliato il microfono, ha registrato qualcosa di strano, boh, chi lo sa Comunque, continuiamo, io ho velocizzato il pezzo perché non c'era volume, ho fatto un po' di casini, capita Comunque, allora andrò avanti un pochino a solo, facendo un breve piccolo episodio in cui almeno potete sentire la mia voce Però vi deprimete, vi dite che cavolo sto ascoltando, cose del genere Metto il microfono come mi piace a me, mi soffio il naso perché sono raffreddato e mi spara in gola Prima di tutto il microfono, vai dietro, schermo, perfetto Vabbè, intanto teniamo così anche se vado a 50 fps Allora iniziamo a fare qualcosa di intelligente Mi serve tanta cobblestone, signori Spero che mi sentiate, ho paura che mi sentiate lontano, una roba del genere Io voglio capire, lol, adesso mi sto incasinando di più la vita Andiamo avanti con la serie, io da solo Vorrei fare qualcosa per questo villaggio semidistrutto Una cosa obbroviosa, obbrovia Oh, questo mi servirà Oh vabbè, intanto cobblestone Ricordate, fate la serie hardcore di minecraft Se non ve la ricordate vi invito a cliccare Tornate indietro nei video e cercate l'hardcore Quando c'era lo speed time Beh, è l'ora dello speed time Lol Sulla pista d'atterraggio C'era steso un uomo biondo Salutava e non lo vidi mai più Poi nel cielo un'esplosione Di un motore a compressione Dedicai l'intera vita Per raggiungere il verità Io sono un missile Ho sfiorato più di mille volte l'atmosfera Ed ora sono inutile Io sono inutile Ho sfiorato più di mille volte l'atmosfera Ed ora sono un missile Irraggiungibile E con tutta la cobblestone Cosa ci facciamo signori? Cosa ci facciamo? Ci sto pensando Ehm Pazienza No 1,2,3,4,1 1,2,3,4,1 4,5 Ce ne sta un'altra Allora facciamo un bel muretto Per il nostro villaggio Semi distrutto What the fuck Allora Ehm Qui mettiamo Qui ci sono le patate Servirebbe Cosa ti servirebbe? Non mi ricordo più cosa volevo dire Oh mio dio Mi sento male Ehm Servirebbe del legno Mucca a morte Tu meriti la morte Mi soffio il naso Non ce la faccio E' una cosa bruttissima Ok Ok Cripp Madonna mia C'è una pecore inseguita da un lupo Una cosa Lupo assassino No No Signori Abbiamo appena assistito ad un omicidio Perché lupo? Perché? Mi uccidi le pecore Porco il demonio Ucciderò il lupo Vieni Vieni a padron frodo all'inferno Mucca Morirai anche tu un giorno Presto ma tardi Allora io sto pianificando Sto pianificando Sto pensando Ecco il mio muretto Salta Salta il muretto Corri per il muretto Allora di qua non dovrebbe riuscire a passare nessun mob Cioè mostro per chi non conoscesse la lingua Di sto minecraft Uno Due Tre Potente Lo ripassano tutti Allora qui è disastrata Una strada così disastrosa non l'ho mai vista in vita mia Questo è mio Potente Ti togli un mucca? Un mucca pecore Oddio Donna voi Via Qui Prendo il fiorellino Questi Voi morirete là sotto È deciso Destino Mio dio quante uova Tutte mie Oddio c'è anche la sorpresa Mother Mother of God Allora qui è fatta No Te ne stai lì Schifo Schifo di un creeper Almeno esiste un creeper Pensavo non esiste Anche sto cavolo di server Che è bellissimo E dovete visitare i canali di tutti i partecipanti E ne trovo anche quello Porco Il Te ne vai Te ne vai Ok sclero Momento di sclero Fa sempre bene Il regalo di una persona Perché se non sclero Non puoi vivere Abbastanza Allora via questo Prendiamo la terra E il fa per villaggio è quasi ultimato Potente E osteria Dammi questo Potente Ecco la scalinata del demonio Allora iniziamo Porco Staccati Staccati Avanti Allora Se sento ancora una pecorella L'ammazzo Te ne vai Da Maroni Allora Qui Qui direi Di Fare così E porco L'ama Mio Dio Sono handicappato Questo Facciamo così Alziamo tutto Di un po' Io ti uccido Sempre in mezzo Mio Dio C'è uno spawn di animali Tremendo E una roba Insulsa Mente Impossibile Cioè Non ha senso Non ha senso Tutti questi animali A rompere l'anima Allora Lo so che non ha senso Fare tutto questo Cosa Quindi potrei velocizzare Il tutto E lasciare che Io parli a Vangra Quindi Parliamo Vambora Blablabla Blablabla Ta 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E' ora di farsi una spada più forte Qua no, l'ho staccato gli pezzi Via tutti a nanna, signori Oh mio dio Cosa potrei dire? Potrei andare a nanna e finire l'episodio Che ne dicete, uè? Uè, 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 uè Mangiamo una bisteccozza Non ha senso mangiare quelle Allora, questo qua Questo qua E lo bruciamo con un alberello Senso zero Nooo, ma che porca merda Bruciamo un bastoncini anche se me ne servivo uno Ma punti di vista Cosa potrei bruciare? Fiorellino brucia Sì, ce l'ho fatta Un po' l'ho cotto Quindi mi faccio una spada decente Attenzione Presa Eh, ostia, ma son scemo Quindi Da La carne zombie E Io pirla Che porco di motton Allora, chiudi Sì, c'è bene, è tutto Guardate il mio letto Poi c'è C'è quello di Danny Di Lollo E poi c'è quello di Glyrux Che sta di là È tutto Scusate per il fail enorme Delle introduzioni Ma ho lasciato intanto L'introduzione di Lollo Che ci stava Poi ho velocizzato tutto il video Io vi ho tolto le parti inutili E Guardatevi l'altro Ciao a tutti Allora, vai a dormire Bluh Buh Yeah Cause I got it like that Flow so smooth Like I got it on tap Yeah And I'ma say it be a good night While I'm on my ying-ling While I'm drinking Bud Light Uh Can you get it when you miss me? Allora, vai a dormire